Senti Cinesio, tu sei Cinesio di Napoli e devi imparare il napoletano eh? Sono Filippino, sono nato qui. Ma se la Cina e la Filippina stanno vicino è uguale? No, non sono vicini. Vabbè Gianni, iniziamo. Maggio spastriato. Maggio spastriato. Maggio spastriato. Ma maggio non è un mese. No, maggio vuol dire mi sono e spastriato vuol dire scocciata, quindi iniziamo, vai. Maggio spastriato. Maggio fasterriato. Vedi che se Cinesio nell'anima? No, sono Filippino. I Filippini non esistono. Maggio spastriato. Maggio fasterriato. Maggio spastriato. Maggio fasterriato. Non ti preoccupare che vedrai alla fine delle lezioni e mi regalerai le bacchette. No, noi siamo bacchette. E come lo cominciate, ci sono. Maggio spastriato, vai. Maggio fasterriato. Maggio spastriato. Maggio fasterriato. Maggio spastriato. Ciao, insegnati da te. Maggio fasterriato. Fasterriato maggio bubbi. Maggio spastriato. Grazie a tutti.